Il gruppo della Cremona, nel 1944, il Partito Comunista lanciò l'appello ai giovani per arruolarsi volontari per liberare i fratelli del nord, i compagni del nord. A Perugia, il Vano Racimelli, la FIGC, tutti noi che partecipammo alla guerra di liberazione, fumo gli animatori, con anche Lello Rossi, il Vano Racimelli, fumo gli animatori del gruppo che partì volontario e che fu arruolato con la Cremona. Debbo ricordare una grande figura di compagno e di giovani che aveva partecipato alla lotta armata nella nostra brigata, cioè con la Cremona morì Enzo Comparozzi, era giovanissimo e non solo comunista e antifascista, ma dette proprio la sua generosa vita, volendo continuare la lotta contro il nazifascismo. Ricordo prima di tutto l'entusiasmo di tutti questi 300 giovani che si partiva. Sapevamo che si andava incontro a sacrifici enormi e tanti di noi non sarebbero ritornati, però partivamo con la speranza di un cambiamento radicale nel nostro paese. Volevamo una Repubblica vera, una Repubblica democratica. Poi c'è l'aria, gira tra questi che erano partigiani, la possibilità, una specie di atmosfera di continuare a combattere a fianco degli alleati che risalivano al nord, inquadrati assieme a loro ma con una nostra autonomia. C'era questa possibilità, si iniziano i primi incontri, si hanno i primi contatti. Da novembre si incomincia a parlare di questa partenza, passa un po' il tempo. Di nuovo tira l'aria di un volontariato militare, di andare a finire questa guerra, a rigettare i tedeschi fuori d'Italia. C'è una spinta oggettiva e c'è anche come una rivalsa contro le voci del vecchio potere, di un potere diffuso che inizia a parlare male dei partigiani perché i partigiani sono stati in montagna ma non hanno fatto niente, hanno fatto di disastro, hanno mangiato soltanto polli, agnelli, queste cose dove possono portare. Va bene, ritornando, insomma queste cose ci portarono a dire ripartiamo un'altra volta, se ci prendono e si hanno contatti con l'esercito italiano che si stava riformando, che aveva avuto dai alleati il permesso di rifare dei reggimenti, delle divisioni e queste divisioni piano piano si formano. La divisione Cremona, la divisione Cremona viene assegnato un pezzo di fronte che stava tra Ravenna e il mare, da ovest di Ravenna fino al mare, sopra Ravenna perché Ravenna era già libera. Però aveva un grosso problema questa divisione, questa divisione era stata, era il Cremona, era l'8 settembre, questa divisione viene colta mentre è in Sardegna e i suoi generali, i suoi comandanti riescono a catturare i tedeschi, a fare prisionieri tedeschi e quindi la Sardegna è libera. Però questa divisione rimane senza viveri, senza provvisioni, senza niente e fa una vita infernale, gli alleati non l'aiutano. A un certo punto però quando decidono di riformare questo piccolo esercito italiano, allora riportano questa divisione dalla Sardegna all'Italia, la addestrano con le armi inglesse e poi la mandano al fronte. Ma mentre avviene questo trasloco in Italia, questo addestramento, questa marcia messa in fronte, tutti quelli che abitano nell'Italia meridionale tornano a casa, abbandonano l'esercito. Quindi molti escono. Quando la divisione va al fronte, questa divisione invece che avere Plotone di 30-40 persone si ritrova con Plotone di 6, 7, 8, 10 persone. E allora deve per forza ricorrere alla ricerca di volontari. E chi possono trovare, se non le bande partigiane del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, in parte della parte dell'Emilia Liberata. E trovano questi partigiani e vanno a discutere con queste bande partigiane e arruolano queste bande partigiane non solo nella Cremona, ma anche nelle altre divisioni, sono 4 o 5 che combattono con le truppe alleate. E la divisione Cremona è quella che ha perso più effettivi e deve ricorrere di più ai volontari. E ricorre a questi volontari dell'Umbria, della Toscana in modo particolare. E così a gennaio veniamo mobilitati. Partiamo una mattina presto, partiamo sui Dodge, su questi camion militari inglesi, si parte. Allora però è successo questo, che molti giovani, anche da Perugia, volevano ancora fare qualche cosa, visto che non era successo granché. Volevano essere utili e partirono per il fronte di Bologna, per combattere insieme agli alleati contro i tedeschi, insieme agli inglesi, agli americani e a tutte le specie che c'erano. E da Perugia partirono molti ragazzi. Partivano con i camion, con un grande entusiasmo, questi l'ho visti con i miei occhi, con le bandiere, bandiere tricolori, bandiere rosse, però erano le bandiere e partivano con tanto entusiasmo. Partirono giovani, come quello che è stato il presidente della provincia per tanto tempo, Ivano Rasimelli, mi ricordo che partì con un gruppo e partì anche Enzo Comparozzi. Si arriva a Ravenna, a Ravenna ci vestono, così come sono vestiti inglesi, ci danno questi fucini inglesi, ci danno qualche Thompson e ci mandano a dormire in un vecchio zuccherificio a mezz'anno, poi la mattina dopo ci portano lungo il mare a Porto Corsini e ci iniziano ad addestrare. Ci iniziano ad addestrare, dice un episodio curioso, perché la mattina ci portano a sparare con questi loro fucili inglesi lungo il mare, ci sono dei bersagli e noi ci mettiamo a sparare e nessuno prende il bersaglio, l'ufficiale si inquieta un po', poi ci insegna, poi quando sentiamo che è proprio inquieto gli diciamo ma non guardi il bersaglio, guardi sopra, perché sopra avevamo messo le conchiglie e tiravamo le conchiglie noi bersagli e ogni tanto prendevamo col fusile queste conchiglie, avevamo una bella precisione, avevamo in montagna imparato che si deve sparare poco e bene e veniamo preparati per una settimana e poi veniamo mandati al fronte. Al fronte siamo sopra a Ravenna, tra Casal Borsetti e una località dove, mi sfugge il nome, dove era morta Anita Garibaldi, lì c'era il comando di reggimento e noi siamo vicino a Casal Borsetti una casa che si chiama Casa Ferraresi e lì facciamo il nostro impatto con la guardia, con le bombe che arrivano, con i pericoli la notte, gli inglesi sono organizzati per capisaldi, ogni casa è un caposaldo, attorno ci sono i reticolati e dentro questo caposaldo stai poi la notte vai a fare le pattuglie nella pineta, c'è lungo il mare c'è tutta una pineta, vai nella pattuglia a fare la pineta. Il nostro inserimento in questo reggimento dell'esercito italiano non è stata una cosa semplice e gli ufficiali erano ufficiali ancora in maggioranza monarchici, c'è uno che dice ne sono arrivati cento dall'Umbria, sono tutti quei fazzoletti rossi, sono tutti comunisti, che ne faremo di questa gente? I soldati dicevano morti di fame, siete venuti qui per mangiare perché a casa non avevate da mangiare. Quindi c'era un po' una tensione evidente, beh quel giorno quella battaglia è servita non solo allentare le tensioni, farle sparire, la sera quando tornavamo indietro da questo fronte avanzatissimo cantavamo per far passare un po' la fame, un po' la paura, un po' la febbre che aveva avuto durante la giornata, questa febbre della guerra e cantavamo e questi anziani dicono ma questo non ce l'aspettavamo, ancora questi cantano e cantavamo. La battaglia continua, ci danno il cambio, ci sono un gruppo di Umberti tra gli altri che ci dà il cambio, la notte loro sopportano anche la notte un duro combattimento, alcuni di loro vengono feriti, qualcuno ucciso. La mattina dopo però il fronte è rotto e la battaglia di Po di Primaro, era la battaglia di Po di Primaro il 3 marzo, è vinta. È vinta e sono qualche centinaio i prigionieri, quelli che si arrendono, i tedeschi che si arrendono e vengono fatti prigionieri. Fa un certo effetto vedere questo irresistibile esercito tedesco che cammina con le mani alzate, questa è la battaglia di Po di Primaro. Poi veniamo messi a riposo per alcuni giorni, veniamo dislocati in un altro punto, in una stazioncina, Gloria si chiamava la stazioncina, una casa vicina a questa stazione e da lì che partirà l'ultima grande offensiva nei primi giorni di aprile. Si tratta di un'avanzata in cui risaltano anche le doti di questi comandanti di questa divisione, non a caso in Sardegna avevano battuto i tedeschi, che dimostra grande dinamismo e che corre ancora più di quello che gli inglesi dicevano dovesse correre o dovesse camminare, perché nelle città prima volevano arrivare gli inglesi, non volevano far arrivare gli italiani. Invece questo esercito corre libero, Alfonsini va avanti, passa il Santerno, arriva a D'Adria. C'è una festa da parte delle popolazioni che è difficile oggi immaginare. Oggi spesso si parla allora come di una guerra civile tra italiani, ma bisognava vedere le popolazioni, il calore che c'era, la gente che c'era nelle strade, l'entusiasmo che c'era per capire che cosa stava succedendo, che cosa voleva dire la libertà, la fine della guerra, la fine dei bombardamenti, la fine delle angherie, la fine della repressione tedesca, della barbarie tedesca. Bisogna averla vissuta, il passaggio in Adria è un passaggio trionfale quasi, c'è una mia, io lì sono stato fortunato, sono stato immortalato perché questa fotografia che voi vedete, io sono quello lì. Cavarsere è sul Po, dove dopo, qualche anno dopo nel 50, 51 mi pare ci sarà la grande inondazione che sommerge quelle zone. Cavarsere non c'è più. Cavarsere di qua dal ponte è una colonna di macchine, di autoblinde tedesche bombardata, il ponte che attraversa lì a Cavarsere è crollato, è semicrollato, tra lì lungo la strada ci sono bestie morte, carbonizzate, uomini uccisi, ci sono due camioni che continuano a esplodere, erano cariche di bombe, di cartucce e continuano a esplodere, sono camion tedeschi, le casse dalle parti sono diroccate, Cavarsere è questa. Cavarsere c'è ancora un autoblinde in piedi che ci viene contro, no, un cingolato con il cannone ci viene contro e ci spara con l'alza a zero, si ha la fortuna che uno dei nostri cannoni riesce a colpirlo e lo blocca. Dalle campanile sparano i cecchini, Cavarsere bisogna farlo casa per casa, sfondando le porte, come si vede nei film qualche volta, quando vedo questi film di guerra con il soldato che entravamo nella porta e riusciamo a passare e andiamo oltre Cavarsere e poi dobbiamo passare il Po, dobbiamo passare il Po, un Po di Goro va bene, con le barche ci portano, troviamo l'altra riva una vecchia donna che fuma la pipa, una figura da film, da quei film che si vedono il Far West e andiamo avanti, dobbiamo passare il Po di Goro, il Po di Goro è un'ala del Po e lì però non ci sono le barche, è aprile, agli 10-15 aprile dobbiamo calarci in acqua e attraversare questo Po piccolo, l'acqua arriva qui, attraversiamo il Po, saliamo la riva, ci sparano da Santa Maria in punta, sparano e andiamo avanti, sull'argine del Po viene avanti un carro blindato tedesco, uno dei nostri col Piat, il Piat è un'arma incredibile, una specie di lancia bomba e riesce a fermare questo Piat e a bloccarlo, i tedeschi sfuggono, tirano dentro e noi ci attestiamo sulla riva del Po, tutto lungo la riva del Po, poi una mattina passeremo a Guadu e in ultimo arriviamo a Piove di Sacco, lì sappiamo che la guerra è finita.